Amiche e amici di Rossini TV, eccoci di nuovo qui. Benvenuti, buona serata a tutti voi. Siamo ancora, come vedete, fuori da Fisioradi Medical Center. Riprende la nostra stagione dedicata alla salute, alla medicina, con la programmazione di Check-up Obiettivo Salute. Saranno tante puntate, almeno 20, che si dipaneranno lungo il nostro inverno per parlare di tantissime cose, problemi sulla salute, problemi del nostro organismo, ma soprattutto su come risolverli, perché il bello della medicina moderna è proprio la risoluzione dei problemi. Multidisciplinarità, tantissimi medici che incontreremo, sarà una stagione incentrata anche sulla fisioterapia perché non dimentichiamoci mai che Fisioradi non a caso prende il nome dalla fisioterapia. Eccoci qua, amici e amici, stiamo per entrare a Fisioradi. Vedete, abbiamo in mano il nuovo fascicolo di presentazione della struttura, con la presentazione dei medici, con i servizi che vengono proposti da Fisioradi Medical Center. Ci sarebbe l'imbarazzo della scelta per decidere da dove partire in questo nuovo percorso, ma in realtà partiremo con Maurizio Radi. Maurizio Radi non a caso, questo centro prende il nome da lui, è l'inventore di questa situazione a Pesaro e ci racconterà anche lui quale percorso ha fatto, ma soprattutto ci racconterà la storia di questo centro che è diventato già, pensate, in un solo anno. È stata inaugurata il 19 settembre del 2021, quindi poco più di un anno fa, è già diventato un punto di riferimento imprescindibile per la salute della città di Pesaro. Maurizio Radi siamo qui dopo un anno con la seconda edizione di CheckUp Obiettivo Salute, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti i telespettatori che ci ascoltano e buonasera a voi e grazie per averci ridato questa opportunità di proseguire un altro anno con questo bellissimo programma. Sì, davvero, perché è stato molto apprezzato da tante persone questo percorso con i medici, con la struttura, che era partita il 19 settembre del 2021 chiamandosi Physioradi Center. Già vediamo una definizione diversa, Physioradi Medical Center, in un anno c'è stata un'evoluzione importante. Il cambiamento del nome è stata l'evoluzione del cambiamento della struttura. Diciamo che il Medical Center è stato proprio aggiunto Physioradi perché oggi il centro è veramente un centro medico a 360 gradi. Quello che avevamo prima era un poliambulatorio con un centro di fisioterapia e di riabilitazione e non aveva la diagnostica che è stata aggiunta nel nuovo centro, una diagnostica completa dove riusciamo a fare tutti i tipi di accertamenti, quindi andiamo dalla radiografia all'attacca, alla risonanza ad alto campo, fino alla mammografia e tutto quello che poi riguarda il concetto di ecografia e elettromiografia. Quindi oggi abbiamo un centro, quindi un centro medico, quindi Medical Center, proprio dove le persone possono usufruire di un servizio completo. Quindi arrivare da noi partendo da una visita medica o specialistica per poi riuscire a fare un esame diagnostico, completare quello che è il quadro clinico e se poi si trattano di patologie che sono patologie ortopediche o neurochirurgiche, arrivare fino al centro di fisioterapia e riabilitazione e completare tutto il percorso. Quindi diciamo che l'evoluzione è stata questa, riuscire a dare un servizio a 360 gradi alla persona, all'utente e continuare ancora a migliorare da questo punto di vista, cercando di crescere ancora perché ancora ci mancano delle sfaccettature che stiamo cercando di colmare. Anche ieri ho avuto un colloquio con un ulteriore medico specialista e quindi piano piano noi vogliamo continuare a crescere per essere sempre al vertice di quello che è oggi la salute per il paziente. Intesa veramente nel senso di multidisciplinare a 360 gradi, però si chiama fisioradi. Partiamo da quella che è la specializzazione di un professionista della fisioterapia, quale sei tu, che nel tempo hai costruito tutto questo. E la fisioterapia, io posso riportare l'esperienza diretta di un mio buon conoscente che ha avuto a che fare con voi in un percorso di riabilitazione importante per una lesione, è la fisioterapia che è il cuore da cui nasce tutto, effettivamente è una pratica fondamentale, Maurizio. Spiegaci esattamente proprio, se dovessi dare velocemente una definizione di fisioterapia e perché è così importante nel processo che è capace in un mese di rimettere persone in grado di fare quello che facevano prima. Ma la fisioterapia per me è tutto, io nasco come fisioterapista, la mia fortuna è stata quella nei primi anni che ho iniziato a fare questo lavoro di lavorare in un ambiente sportivo, un ambiente sportivo dove da subito ho lavorato gomito a gomito con altri professionisti, partendo dal medico dello sport, l'ortopedico, il preparatore atletico e l'allenatore e quindi mi sono reso conto di come una persona per stare in salute o per ritornare in salute avesse bisogno di un approccio a 360 gradi e questo mi ha portato nei miei primi anni di lavoro a capire che anche la mia professione doveva essere in continua crescita e quindi facendo tanti corsi di specializzazione, partendo dall'osteopratia, alla terapia manuale, alla riabilitazione specifica che potesse essere per ginocchio, spalla, arachide e quindi questo mi ha portato poi a una continua crescita, una continua crescita che nel tempo oltre ad essere importante per gli atleti che seguivo è diventata importante per le persone, i pazienti che poi venivano nel mio studio privatamente. C'è stata una grossa evoluzione della fisioterapia, io ormai purtroppo fortunatamente sono 30 anni che lavoro e quello che dico oggi molte volte spero che i pazienti che abbiamo riabilitato 25-30 anni fa non ci sono più perché oggi è totalmente cambiata, quindi noi all'epoca non avevamo la conoscenza e i mezzi che abbiamo oggi, oggi abbiamo una grossissima conoscenza, siamo cresciuti tanto da un punto di vista professionale e questo anche grazie alla crescita della medicina, della chirurgia e la crescita e dell'apertura dei medici con cui ancora oggi lavoriamo e abbiamo lavorato in questi anni. Tante ore in sala operatoria, tante ore negli ambulatori con i medici e oggi la fisioterapia è questo, non è più il tuo piccolo orticello dove tu pensi di trattare il tuo paziente sul tuo lettino ma riuscire a fare quello che è di tua competenza ma riuscire poi a consigliare al paziente magari una strategia, un percorso terapeutico che molte volte è un percorso completo che non dipende solo da te ma dipende da altre figure che collaborano con te e che sono di aiuto e di supporto per il paziente. Quindi cos'è oggi la fisioterapia? Oggi la fisioterapia è un mondo bellissimo, un mondo che è cresciuto, un mondo che continua ad essere in crescita dove noi su questo ci puntiamo tanto, io con tutti i miei collaboratori e quindi per me oggi la fisioterapia è stata ed è la mia crescita personale ma riuscire a far crescere tutto il mio staff per riuscire a dare un servizio sempre migliore a tutti i pazienti che vengono qua a Fisorali di Medical Center. E infatti sei molto attento ai percorsi di formazione, le persone che lavorano insieme a te dentro questa struttura seguono comunque una filosofia che è davvero improntato a dare il massimo per la salute del paziente. Sì, i ragazzi mi seguono tantissimo. Oggi se siamo qui, se Fisorali di Medical Center è diventato un brand riconosciuto non solo a livello locale ma anche a livello nazionale è perché tutti continuiamo a crescere e a fare formazione. Addirittura abbiamo creato l'Academy Fisorali e la crescita non è solo professionale ma anche personale. All'interno abbiamo vari progetti, abbiamo fatto un progetto di team coaching, abbiamo fatto una selezione accurata sul personale e tutti quelli che oggi sono Fisorali di Medical Center sono contenti e orgogliosi di far parte del progetto e di indossare questa maglia. Questo oggi ci ha portato ad essere riconosciuti anche a livello nazionale. abbiamo avuto tante visite da tanti altri colleghi che hanno centri in giro per l'Italia per proprio guardare e cercare di copiare il nostro metodo sia di lavoro sul paziente ma anche il metodo organizzativo che abbiamo all'interno del centro. Sì, questo aspetto dell'orgoglio, proprio del senso di appartenenza, faccelo dire, l'abbiamo visto anche in occasione di eventi. Tu hai organizzato già recentemente due eventi interessantissimi, importantissimi che hanno convogliato prima nel quartiere di Vismara, proprio qui nel piazzale davanti al centro, tantissime persone a seguire la serata con Massimiliano Secchi e poi non più tardi della fine di settembre, quasi a festeggiare un anno dall'apertura del tuo centro, avete organizzato in un'azienda nei vintoni di Pesaro una serata straordinaria con Barry Sears sulla Dietazona. Quindi in realtà Fisioradi dimostra con i fatti anche di voler allargare, di voler proporre alla cittadinanza dei temi importanti sul benessere e sulla salute e si propone come punto di riferimento. Hai detto delle bellissime cose, soprattutto il fatto dell'evento con Massimiliano Secchi. Questo per me è una bellissima cosa perché io con Massimiliano ci ho lavorato tantissimo da un punto di vista personale per la crescita, quella che è stata per me per riuscire poi a gestire un gruppo di persone. Con Massimiliano, dopo il mio lavoro che è stato fatto per un lungo periodo, abbiamo anche iniziato un lavoro con tutto lo staff di Fisioradi Medical Center perché mi rendevo conto che magari i ragazzi o le ragazze potessero essere in difficoltà non tanto sulla parte tecnica lavorativa ma delle volte sulla gestione delle situazioni. Massimiliano è un formatore, è un live mentor, è un ragazzo come avete potuto vedere, chi c'è stato l'evento, chi non c'è stato l'evento, c'è un video che gira oggi su Rossini TV o anche sui nostri canali social YouTube che si è formato prima lui venendo fuori da una situazione veramente importante e oggi è una persona che trasmette tanto e riesce a far crescere le altre persone. Quindi oggi noi dobbiamo riuscire per dare il meglio di noi stessi alle persone che sono davanti, che sono dei pazienti, essere noi prima in salute, essere noi in una situazione di tranquillità e riuscire a ascoltare, comprendere chi abbiamo di fronte per poi trasmettere a loro non solo un trattamento terapeutico ma una sicurezza nel momento in cui la persona è nelle nostre mani. E questa cosa l'abbiamo voluta trasmettere con questo evento perché secondo me la serata con una persona così speciale può fare riflettere tante altre persone su quello che uno vive oggi e non guardare sempre le cose da un punto di vista negativo ma riuscire a capire che forse stiamo già vivendo bene, dobbiamo solo essere consapevoli di poter vivere sempre di più nel benessere perché siamo in tante situazioni o situazioni di benessere che possiamo migliorare. Quindi i nostri eventi, poi passando all'evento di Berry Sears, anche qua un altro evento dove volevamo comunicare cosa oggi può essere importante l'alimentazione. Quello che dico sempre, e non sono frasi dette da me ma sono frasi dette da relatori importanti, oggi siamo quello che mangiamo, siamo quello che pensiamo. Quindi con gli eventi vogliamo far passare un messaggio che le persone devono pensare a se stessi e se oggi seguiamo delle indicazioni di personaggi di questo genere nella nostra vita quotidiana noi possiamo stare decisamente meglio, vivere in salute e vivere nel benessere. Quindi sono cose che facciamo su di noi ma che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta o chi viene da noi per proprio riuscire a passare questo messaggio in ogni momento, non solo entrando dentro il centro ma comunicando all'esterno quello che veramente oggi siamo noi, facciamo e l'importanza di tutti questi professionisti che ci sono che possono aiutarci a stare bene. Grazie Maurizio davvero, è un grazie di cuore perché ci hai dato questa possibilità di poter continuare a aiutare le persone, a entrare in contatto con loro, a dare le soluzioni ai problemi e Fisioradi è veramente un piccolo pezzo d'orgoglio della città. Ti riporto semplicemente questa cosa, alle tue due serate rappresenta il prefetto di Pesaro il dottor Ricciardi, una persona straordinaria che ha ravvivato anche le serate solamente con la sua presenza e con la testimonianza per dire certo che a Pesaro ne fatevi cose belle, parole sue anche grazie a Fisioradi. Io ringrazio tutti quelli che vengono sempre ai nostri eventi perché se i nostri eventi sono diventati così importanti e i nostri eventi sono seguiti sicuramente perché riusciamo a trasmettere un qualcosa ma sicuramente perché le persone ci seguono. Quindi noi quando vediamo che nei nostri eventi ormai siamo arrivati ad ospitare dalle 200 alle 300 persone per noi è sicuramente un vanto e tutti siamo contenti di fare questo e quando finiamo l'evento, nonostante siamo stanchi perché dietro l'evento c'è un grande lavoro di organizzazione dove partecipano tutti i ragazzi e tutte le ragazze fino alla sera dell'evento, quando arriviamo il giorno dopo e addirittura alcune volte anche la sera stessa abbiamo già in cantiere l'evento successivo e questo mai è diventato un modo di lavorare nostro e sono veramente contento e orgoglioso di tutto lo staff perché se oggi Fisioradi Medical Center è arrivato dove è arrivato è grazie a tutti, Maurizio Radi da solo non sarebbe arrivato da nessuna parte, i ragazzi hanno capito e ragazze uguale l'importanza di tutto il lavoro dietro le quinte e quindi io voglio chiudere dicendo grazie a tutto il mio staff che mi supporta in tutto questo. Grazie Maurizio, amiche e amici di Rossini TV, seguiteci, ci hai dato anche l'opportunità di ringraziare chi sta dietro le quinte anche alle nostre telecamere quindi ringraziamo i tecnici, Francesco Mazzetti che ci seguirà in questo percorso, saranno tante puntate, seguiteci perché davvero ci sarà da imparare tante cose, buona serata a tutti. Grazie 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 Grazie